Olio di cocco per dimagrire, per accelerare il metabolismo, per problemi di tiroide e molto altro. All'interno di questo video oggi parliamo proprio di questo. Io sono Luca Veronese, esperto di strategie bruciagrassi e metabolismo lento e oggi voglio portarti qui sul canale un'altra tra le tante strategie e consigli che fino ad oggi ho condiviso con voi per migliorare il metabolismo, stimolo, dimagrire, stare meglio, avere più energia, risolvere qualche problemino metabolico che mi ostacola il dimagrimento e oggi ti parlo dell'olio di cocco. Prima di andare avanti in questo video però ti chiedo un favore. Mi farebbe davvero piacere se ti iscrivi al canale, lasci un like al video in modo che possa arrivare a quante più persone possibili e che questi contenuti di valore possano aiutare quante più persone possibili. È un piccolo contributo da parte tua, io dall'altra parte mi impegnerò di fare sempre video di ottima qualità. Sappi che se lasci invece un schiacci sulla campanella puoi ricevere la notifica ogni volta che esce un video ed escono tre video tutte le settimane. Grazie. Ultimamente ho iniziato a consigliarlo all'interno dei percorsi perché prima di tutto l'ho sperimentato io, l'ho studiato e quindi quello che funziona cerco di condividerlo con voi. Lo condivido con voi solo dopo che l'ho provato io e dopo che ho fatto test su tante persone. Stiamo parlando di un olio di cocco che si trova in qualsiasi supermercato, qui vedete scritto in spagnolo perché sono in territorio spagnolo. L'importante è che sia biologico e che non abbia nient'altro che 100% olio di cocco. Quando lo mettete in frigo è solido, è solido, a me piace solido e lo mangio con un cucchiaio a crudo così. Se lo lasciate fuori diventa liquido, diventa olio. Quindi a volte è burro di cocco, a volte si chiama olio di cocco ma è sempre lui. Allora, perché ha importanti benefici per dimagrire non solo, anche per persone con ipotiroidismo? Allora, prima di tutto l'olio di cocco è stato messo in cattiva luce qualcosa come 30-40 anni fa quando l'olio di soia, l'olio di mais, tutti gli altri oli dovevano essere introdotti nel mercato. Quindi è stato messo in cattiva luce per far spazio a questi altri. In realtà si è scoperto che erano bugie tanti anni dopo, nel senso che sono molto più dannosi l'olio di mais, tutti i prodotti di mais. Si è visto che sparano un eccesso di... hanno una reazione nel corpo delle persone e causano un eccesso di glucosio nel zucchero come reazione perché ormai è sotto forma di sciroppo di mais, trasformato in tante forme e messo in tantissimi cibi il mais. Quindi il mais non ci aiuta, come neanche la soia. E invece è innocente l'olio di cocco. Vediamo che proprietà ha e perché ci aiuta. Allora, prima di tutto sono grassi un po' particolari. Sono grassi MCT, che significa in inglese sarebbe a dire a catena media. Quindi sono grassi che il corpo non farà passare per il fegato e tutto questo, ma li utilizzerà subito. Come mettere benzina disponibile subito. Però sono grassi, non sono zuccheri. Quindi è un olio che posso utilizzare per avere lucidità mentale, per avere energia pronta all'uso. Ok? Questa è la prima fantastica proprietà. Ma perché mi eleva il metabolismo, migliora il metabolismo, mi aiuta a dimagrire? Sappiamo che le persone che hanno problemi di tiroide, un ipotiroidismo, hanno una temperatura corporea più bassa. Questo è quello che comporta l'ipotiroidismo. La termogenesi, cioè il calore che il corpo stesso produce, può aumentare o diminuire. E un ipotiroidismo, una persona che ha ipotiroidismo, ha una temperatura corporea più bassa. Tant'è vero che all'interno dei miei percorsi faccio fare un test dove mettono un termometro sotto alla lingua. Non deve essere inferiore a 36,5 o ottimale 37. Si è visto che chi ha una temperatura inferiore molto probabilmente ha qualche problema di ipotiroidismo. Questa è una teoria su cui ci sono stati scritti anche tanti libri. Ci sono stati medici che hanno divulgato questa teoria e che ha aiutato molte persone a identificare un problema di tiroide anche quando dalle analisi cartacei era tutto a posto. Quindi l'effetto dell'olio di cocco è termogenico. Significa che mi eleva la temperatura corporea. Quindi sì che in persone che hanno ipotiroidismo prendere olio di cocco mi eleva la temperatura corporea. Poi, quindi abbiamo detto ipotiroidismo. Un'altra cosa molto importante. Poi alla fine del video vi dico un cocktail che io faccio fare per i miei clienti. Ve lo dico alla fine perché intanto andiamo dritti con la spiegazione. Spegne la fame, fame nervosa che abbiamo già detto in tante occasioni fame nervosa non è, ma è uno sbilanciamento dell'equilibrio fame e sazietà a causa di cereali, a causa di alimenti come cereali per esempio, il pane, troppo pieni di energia ma scarsi nutrienti. Questo mi sballa il mio equilibrio fame e sazietà che le persone recuperano una volta che tornano a mangiare secondo natura. L'olio di cocco mi aiuta in tutte quelle volte che ho un buco di fame, che ho fame nervosa, mi spegne la fame e mi dà energia pronta. Quindi è fantastico. Un altro punto importante è che contiene acido caprilico. Questo ha proprietà antibatteriche, elimina le tossine, mi elimina batteri, distrugge virus, herpes e il fungo candida. Il fungo candida, molto comune nella donna e situato nell'intestino, nella donna, nella vagina, mi produce fino a 78 tossici nel corpo e si alimenta di zuccheri. Quindi quanto più una persona è sovrappeso, quanto più una persona ha problemi con la gestione degli zuccheri, diabete e così via, è tanto più probabile che abbia il fungo candida e che abbia un eccesso di tossici nel corpo. Si è visto che alcune persone hanno effetti avversi quando, effetti indesiderati li chiamerei, quando prende l'olio di cocco. Questo perché succede? Allora, uno, quando io lo mangio abbiamo detto che o il corpo lo utilizza o lo elimina sotto forma di diarrea. Questo succede quando ne mangio troppo. Poi vi dirò come assumerlo. Ma si è anche visto che proprio per queste proprietà che ha di antibatteriche, di distruggere virus, batteri, eliminare tossine, molto utili in un percorso di dimagrimento e di eliminare il fungo candida, si è visto che questi batteri muoiono e quando muoiono marciscono e quando marciscono mi danno degli effetti indesiderati come può essere mal di testa, diarrea, dolori muscolari, prurito nel corpo e tutti questi effetti indesiderati dovuto appunto a questo processo qua. Quindi si può definire normale, transitorio. Se io assumo questo e sto per esempio facendo la libertà alimentare, che se non lo stai ancora facendo ti consiglio di farla, dove l'assunzione di zuccheri semplici, di cibi raffinati è ben bassa, tu vai a migliorare a 360 gradi il tuo metabolismo, ad abbassare eventuali batteri, tossine, virus, fungo candida e così via. Un'altra indicazione può essere utilizzata anche per cucinare. Perché? Perché fino a 280 gradi non si altera. Quindi io lo prendo crudo, però in tanti paesi del mondo questo olio non è una novità, è vecchissimo e si usa appunto per cucinare senza problemi. Nel senso lo usano da centinaia e centinaia di anni. Ora, un cocktail che io faccio usare alle persone quando vogliono dimagrire, quando vogliono fare un percorso di dimagrimento è sicuramente la libertà alimentare, sicuramente idratarsi correttamente e tutti i passi che dico per ripressionare il metabolismo e che trovi tranquillamente e liberamente in questo canale dico anche di aggiungere per amplificare l'effetto termogenico ma senza stimolanti, eccitanti, è quello di abbinare Zero Fat che è un termogenico e abbinato per esempio all'olio di cocco alla libertà alimentare, a tutto quello che insegno, è una bomba. In più, se ho magari tanto sovrappeso e quando io vado a dimagrire ho sicuramente un aumento dell'eliminazione di tossine e così via faccio usare anche Zero Water che è un drenante quindi mi aiuta a drenare un eccesso di liquidi eventuale ma soprattutto mi fa un'azione di detox questa è la parte in realtà più importante l'azione di detox dove? Nel fegato perché il fegato è un altro punto molto importante perché lì è dove avviene la maggior parte della conversione di ormone T4 in T3 attivo quindi se penso di avere della pancia se penso di avere fegato grasso perché quando ho pancia si è visto che è molto correlata alla cosa ho anche fegato grasso probabilmente è una tiroide che non sta funzionando bene è tutto collegato quindi questo combo qui è qualcosa che io faccio fare e le persone ottengono risultati questo è il punto non è tanto lo sta dicendo Luca ma è le persone ottengono risultati quindi puoi fare semplicemente prendere l'olio di cocco e basta puoi fare tutto quello che dico applicare la libertà alimentare o anche puoi aggiungerci e potenziare questa formula applicando proprio completamente questo stack bruciagrassi così possiamo chiamarlo questo era il video di oggi per l'olio di cocco ne parlerò ancora perché ha tante proprietà e personalmente mi piace lo uso, lo tengo in casa praticamente sempre lo uso quotidianamente altra cosa che mi stavo per dimenticare è il dosaggio, la quantità io vi consiglio di partire da mezzo cucchiaino cucchiaino da tè partite da mezzo lo tenete per 4, 5, 6, 7 giorni poi aumentate un cucchiaino poi aumentate uno e mezzo e così via l'unico effetto collaterale che può succedere è quello che può dare un po' di diarrea se esagerate però per esempio a me non è mai successo e non è neanche che abbia esagerato quindi insomma partire da mezzo cucchiaino proprio per partire con prudenza ma credo che un cucchiaino possa essere ben tollerabile da tutti e se vi succedono questi effetti avversi può essere anche che avete un'alta un'alta quantità di batteri, tossine tossici, fungo candida eccetera quindi se avete un sovrappeso avete zuccheri alti nel sangue e così via è molto probabile che sia tutto collegato e la prova del 9 è che se prendo un po' di olio di cocco mi dà diarrea significa molto probabilmente che devo continuare questo percorso abbassare gli zuccheri e fare tutto quello che insegno spero questo video ti sia stato d'aiuto condividilo con persone che potrebbero averne bisogno condividilo sui social condividilo dove vuoi in modo che possiamo aiutare quante più persone possibili e noi ci vediamo al prossimo video